Ok, allora, il microfono è a posto, il video è partito Ok, ci siamo Yuri! Che stai a fare, zio, duo? Eh, zio, sto registrando... Stavo per registrare una parte a Pokémon Che è il gioco per YouTube Zio! Zio, che cos'hai? Oh, zio! Zio! Ma vaffanculo, Yuri dei Pokémon! Ma vaffanculo! Anche Gianluca! Ma vaffanculo, te Gianluca e i Pokémon! Ma fuma di infiotena, no! Ma vaffanculo! Vaffanculo, Yuri! Vaffanculo! Buonasera, signore e signori! Simpatico scherzo, mamma mia, come sono simpatico! Come un dito di sabbia nel culo, nell'ano! Comunque sia, benvenuti alla parte numero 31 Oh, ma god, oggi sono... Ero in compagnia di Gianluca E di... Dai, cazzo, Ruggero! Che... Ovviamente li faccio io le voci, eh! Non è che c'è qualche di un altro con me a farle! Eh, solo che mi hanno detto che mi riesce abbastanza bene Ora, magari dal microfono non saranno come dirci voglia Eh, però i miei amici dicono Eh, ma sei uguale! Una volta lo feci Eh, proprio la prima volta che feci questa imitazione ad Arezzo, in una piazza Tipo tutti si votano Ma tu sei... sei uguale, sei... E io... Grazie, dissi Ma siete molto gentili! E... E però, purtroppo... Eh... Non sono loro Comunque sia, benvenuti alla parte numero 31 Siamo ex seguace del Team Plasma Nuovo Ehm... E appunto Siamo qua dentro all'interno del vascello Ehm... Della Going Merry Ehm... Non ho capito cosa cazzo ho detto Per proseguire dovrai disattivare quattro interruttori Vai a cercare i suoi antipanelli del teletrasporto La cosa che mi diverte molto, molto Ehm... Comunque sia Ehm... Intro un po' diversa alternata Come la corrente Ehm... Perché non sapevo veramente Come iniziare il video E vabbè Abbiamo... O abbiamo Però non so nemmeno come mai devo dire Sempre abbiamo Ehm... Non lo so Non mi riesce... Così Comunque sia Stavo dicendo che Cosa stavo dicendo? Ah sì Ehm... Come avevo detto Quindi Ehm... Ho trovato la Ehm... HDPVR Che era di un mio amico Me la sono fatta imprestare Ma purtroppo O pultroppo Perché io scrivo sempre Pultroppo Anche se mi dicono Ehm... Purtroppo Vaffanculo Ehm... Purtroppo Ehm... Non posso collegarla Alla televisione Che ho in camera mia Perché la televisione Che ho in camera mia Non ha i due I tre jack colorati Dietro Dietro proprio Come il ghiaccio Ehm... Rosso Verde E blu Come i colori Dei Power Ranger Ehm... Il problema è che Tutti gli altri C'è Vanno Sono collegati Ma mi manca quelli Il problema è che Non ce l'ho appunto Questi tre jack Colorati E non so veramente Come poter fare Senza Senza Veramente quelli Non... Come cazzo faccio A collegarla Non... Non funziona Quindi Se avete qualche idea Magari Sapete di... Ma che cos'è? Ma... È un labirinto Ehm... È una palestra questa Se avete Non so Qualche idea Su come farla funzionare O magari Mi dite che C'è un adattatore Perché sono andato All'expert Gli ho detto Guarda L'HDPVR Così e così Ma... Io non so Ma... Esiste una cosa del genere Mi hanno detto È impossibile Poi ho detto Vabbè Ma senti Ma se io Prendo una Fotocamera Non so Così Una videocamera Che mi registri Se io lo attacco Alla televisione No? Che esistono ovviamente Ehm... Ce l'avete voi Eh ma È impossibile Non le fanno E io ho detto Ma scusa Allora io che faccio Mi invento le cose Cioè l'ho vista Esiste Eh ma no È impossibile Ti sarai sbagliato Quindi probabilmente Mi sarò sbagliato Perché la mia connessione Non era a quattro tacche Quel giorno E prima di mettere le mani Addosso al commesso Perché i commessi Sono strani Talvolta non hanno Veramente niente La barriera è stata rimossa Wow Ganzo Talvolta non ha Ah ok Talvolta Non ci capiscono Veramente niente Delle cose che Che tu gli dici Anzi Altre volte invece Sembra Che veramente Eh... Siano lì per venderti Qualsiasi cosa E lo hanno Allora a questo punto Ho deciso di aspettare Per ora Anche perché Non posso nemmeno Cambiare la televisione Uno perché è nuova Questa Cioè è nuova E due perché In camera mia Dove ho Voi ormai avete forse Fatto Avete visto Dove Come è fatta La mia scrivania Ho il monito Del computer davanti E sulla sinistra Se va di bene Di male in peggio Ho sulla sinistra Appunto La televisione Con l'Xbox Il problema è che Non ne posso mettere Una tipo a 30 pollici Perché di sopra C'ho le menzoli E... Cioè Mi si sbarba il mondo Non la posso appendere Al muro perché Non ho un muro libero O comunque sia Non è vicino al computer E non mi torna bene Il che Eh... Questa cosa mi Mi Sposta su un'altra O prendere Una Dead Soul E comunque sia Fare un troiaio Perché anche se Quella in 720p E... Cioè La qualità Veramente E' proprio Penosa E mi viene avvelenato Per la seconda volta Quindi Non avevo voglia Oppure Magari Prendere Una videocamera Magari Da un centinaio Di euro E con Con essa Poi Appunto Farci dei video Magari con un cavalletto Perché magari Una videocamera Mi può essere Un po' Più utile In generale Cioè anche se Dico un giorno La porto al mare Vabbè Portare la videocamera Al mare O magari esco fuori Con gli amici Non porto mai Una videocamera Eh... Magari una cosa del genere Mi può essere Leggermente Un po' più utile Però ecco Ho detto così È per dire Magari Ditemi anche un po' Voi Ringrazio Adverse Leader Che mi ha chiesto Mi ha chiesto Mi ha detto che Se volevo Mi registrava Le sue Le sue Le sue Miei video Miei cosi Però Eh... Volevo fare Non che non apprezzi Il suo gesto O anche il tuo Dato che Probabilmente Guarderai questa parte Ma volevo fare Un po' Nel senso Che se un giorno Voglio registrare Prendo attacco Faccio E festa finita Eh... Una cosa del genere Però Cioè non Ma che Cioè come sprecare La vita E quindi Adesso devo un po' Vedere Devo Devo guardare Se magari riesco a trovare Una videocamera Che comunque sia Mi registra bene Cioè va bene lo stesso Nel senso Un treppiedi Con un cazzino Riesco benissimo A montarlo Quindi Eh... E quindi A parte questo Tutto bene Stiamo distruggendo Reclute Su Reclute Uh... Flygo L'attenzione Incredibile La nostra squadrona Diventa sempre più forte Però mi Dimentico sempre Allora Oh me ne manca uno Mi dimentico sempre Di Di Zero Arc E Probabilmente Perché lo voglio togliere Eh sì Eh... Non... Non che mi stiamo Proprio garbando Al massimo Anche perché è un po' lento Da... Da allenare Là c'era uno Che curava la squadra Porca Eva Oh eccolo qua Quindi affrontiamo Disattiveremo le barriere E poi Vi lascerei Vi lascerò Perché Altrimenti le parti Dopo diventano troppo lunghe E mi dite Ah ma sono troppo lunghe E ci Bim 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 Allora Le faremo un po' più corte Quasi almeno Vi accontentate Vi piace di più Schianto Arrotola Noi ci arrotoliamo E lui ci schianta Addosso Deino Un dino incontra Un dino incontra Un dino incontra Un dino incontra Un altro dino E dice Giochiamo una spawn dino Dai no Best battute di hash Queste Le potete anche ridire Se vi picchiano Mi dispiace Non è stata colpa mia Comunque sia Se Carre in inglese È Macchina E man È uomo Mia zia Carmen È un transformer Se questa Brutta Chi la usa Stridola con nemico È forza Più essere nemico Uh Bene Questa Ci può essere utile Però Le mettere a possedì a rotola Tanto non ci interessa E L'ho sentita Tipo Non mi ricordo In quale canale Ma è vecchia Questa Come il cucco Usiamo strizzata Vediamo quanto gli toglie Uh Un sacco Usiamo ora Giga assorbimento Così almeno Ci recuperiamo Ips Perfetto Ragazzi Che Inox Veramente è una bomba Quando dice di Di carburare È forte Se conquisteremo Il team plasma In mondo Che ha un Ah Un levanni Ah I panni Usiamo strizzata Tanto è normale Quindi qualcosa Gli fa Più Vabbè Ho visto Cioè Più 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 ps ha il nemico Più danno fa È la metà Se ha tutta la vita È la metà Se Va sempre la metà Quindi è un Attacco di merda Porcaccia la miseria Guardiamo Nami Vai Usa lancia fiammi Anzi onda calda Dio buono La devi bruciare Quel Cosa Che poi è miso Tra una formica E un amante Cioè sarebbe più Un amante Religiosa Non regisosa Comunque Mi dà anche La testa di formica Allora Giulietto Grande È un eroe Davanti a un pokemon Disinfettato Anale Perfetto Disinfettatevi sempre l'ano Eh ragazzi Mi raccomando Allora Affrontiamo un'altra regola Non perdiamo Non perdoniamo O non perdiamo Bote Comunque sia Vediamo un po' Chi è Scolipede Proprio lui Incredibile Mi sono dimenticato Di mettere Nami davanti Questa cosa mi turbo Rimettiamo a questo punto Flygle Perché Scolipede È assolutamente Veleno Quindi Una geoforza Lo distruggerà Tossina Ovviamente Ritorneremo dal nostro Scienziato che ci cura Sei un grande Sei Hai un solo pokemon Non tenti di distruggere i miei Attaccando No Usi Tossina Ovviamente Tossina è utile No Ma vale Entalo Su Dai Su Usa agilità Allora sei anche forte Avevo pensato Magari Poi non so se vi piaceva Però È solo un'idea È una supposizione Non dite dopo Ah ma Avevi detto che la facevi Di fare un Nuzzlock Praticamente sono delle sfide Giocando con i pokemon Molto divertenti Che in inghilterra e in america Vanno molto Qua in italia non credo che ancora Siano stati fatti O se sono stati fatti Non lo so E mi scuso Non dite ma Avete copiato l'idea Bla 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 Comunque sia Praticamente di Di iniziare con i pokemon A ogni percorso Catturarne uno nuovo E però Se Durante la battaglia Non si può sostituire Il pokemon E se Il pokemon Muore Nel senso Viene sconfitto Non si può Cambiare Nel senso È morto Non 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 resisterà più Oh Cazzo No E Dato che non resisterà più Che Non avrà più vita Non potrà essere più Riutilizzato Quindi non lo posso più ricurare Viene accantonato Viene buttato fuori nel box E ne viene preso un altro Ad ogni Percorso nuovo Ne viene catturato Uno nuovo E In quel caso Uno decide Cioè io decido Se catturarlo Cioè se utilizzarlo Oppure no Ecco Una cosa del genere E devo dire che In Come si chiama Tipo in In America Ho visto Soprattutto in Inghilterra Da un Che si chiama Maryland Famoso Lui per le guide pokemon Sui pokemon Mi arriva i messaggi su facebook Le notifiche È molto famoso Non so dove devo andare Mi stanno arrivando E-mail e notifiche a rota E Lui è abbastanza famoso E Lui l'ha fatta L'ha fatta con quasi tutte le versioni Dei pokemon Quindi Ok quindi dovremmo andare in questo È l'unico che non avevo sfidato Quindi magari se Se non va il progetto Tipo xbox Che registro Potrebbe essere un'idea Magari in attesa di x Y Allora Sono indeciso tra l'altro Perché ho visto Il pokemon quello volante Tipo quel drago Bellissimo Sembra quello di Non mi viene Avatar Quella specie Tipo di draghi Che cavalcavano Bellissimi Insomma E- E però io volevo Prendere la Y Perché comunque Se io mi chiamo Yuri Quindi magari Poteva essere più carino Prendere Pokemon Y Ora vediamo Io non so Non mi ricordo Ora se su Y Ce n'è uno O su Y Ce n'è un altro Però Era carino Magari Prendere quello lì Intanto Vabbè Faccio la ricerca con l'iPhone Va a Pokemon X Vai Uh Sa a livello 51 Ignox Allora Vai Pokemon Ehm Nami Nami Ordina Di qua Perfetto Quindi andiamo qui dentro La barriera è stata rimosse Tutte le barriere sono state rimosse Perfetto Adesso ce ne dobbiamo anche andare Grazie Facciamoci un'altra curata E poi ce ne possiamo andare Allora Vediamo un po' Sarà tipo in 3D Credo Io non Non ne ho idea Ma Penso che la grafica Sarà veramente Da Da spaccarsi le nocche Le nocche Veramente Ok Passiamo di qua Andiamo di qua Qua si va giù Si va su No Di qua Si va di qua E Non si va di qua Ok Mi sto perdendo Il che mi sta frustarando Sfrustando Ma io non Fa Oh Eccola qua Perfetto Uh Violante Quel congenio è indistruttibile Non riusciremo a liberare Kyurem E' Dupo Ho capito Ma le estreme Sere rimedi Bene Affrontiamo Violante A questo punto Vabbè Poi Possiamo concludere qua A tre pokemon Vabbè Si la grafica E' totalmente In 3D Sto guardando Tipo dalle immagini Potrai viaggiare Con Con anche altre persone Il che mi rende Molto Diver Cioè Mi rende più bello Questo gioco Anche se forse Perderà un po' Boh E poi puoi scegliere Tra Il nero Cioè puoi essere La persona scura Di pelle Oppure Quella Quella bianca Tipo E c'è anche Bionda Io non credo Di scegliere Quello bionda Perché Sono bionda Allora Pokemon Y Perfetto Sarà quello Che scelgo Perché Ha Ha quel pokemon Tipo Lugia Tipo carta di Yu-Gi-Oh Tanta roba Oh ma Ancora hai Tutti i pokemon Di tipo ghiaccio Ma non sei male Intelligentore Pokemon Y Quindi Ragazzi Mi dispiace Ma io andrò Su Pokemon Y Tutta la vita Eh si C'è questo pokemon qua Che non so ancora Come si chiami Gli starter Sono molto belli E Avremo anche Sylveon Che è il tipo Fata di Eevee Che mi rende Molto Felice Yu Una sonora sconfitta Perfetto Allora salviamo A questo punto Io vi do L'appuntamento Alla prossima parte Come al solito Vi dico Votate Commentate Iscrivetevi Mi raccomando Informatevi Per quanto riguarda L'HDPWR Se sapete qualcosa Oppure no Un saluto Da Esch88 Dalla nostra squadra Di pokemon Votate Commentate Iscrivetevi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi